Arriva, 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 arriva Signora, cosa ha fatto io di sé? Davvero senza riflessi Signora, lei non è costo di maneggiare i martelli, vada via Grazie, grazie Vai, vai Vediamo chi è che se la sentite dicimentato Che non è un gioco per bambini, è un mazzo tutto per quanto Allora, venga a scegliere Lei, secondo me, lo vuole grosso A occhio Ammazza che ammazza Mi dicono così, non mi scontro Allora, pronta, pronta Via Proviamo con l'effetto estremo, proprio estremo, signora Riesce a... Quello è il martello Eh, signori, senza aiuti, eh, senza aiuti Pronta, pronta Come volevo si dimostrare Mi dia, signora, non te che così la faccia No, 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 no